Il Ciappo. Dove siamo? A Istanbul. Grazie. Questo è un videoblog, prima volta a Roma, un vlog a Tereccio. Abbiamo appena superato Firenze e adesso siamo indirittura tra un'ora circa dovremmo essere a Roma Tiburtino. Lui è il Ciappo, ricercato in 15 paesi diversi. Comunicazione interna, comunicazione interna, Mirko ripenta teso la cassa destra, grazie. È solo una mica per me, è solo una mica per me, mi dispiace. È solo una mica, guarda. Il classico turista tedesco. Ti devono dare la pensione di invalidità, ti devono dare vecchio pazzo. Quindi Sara, qual è la tua tecnica per... Sono un borseggiatore. Lasciamo mecca qua. Ti vede solo come la pensione. Ma è qui, questa tecnica è qui. Mi sento già Romano. Cioè, 40 anni di ragazza. Oh, spacca un vetro, mi spacca, lo spacca. Roma, Roma. Roma Tiburtino. Si scavalcano i tornelli, come su striscia la notizia. Eh, dobbiamo vloggare. Adesso dobbiamo farci i biglietti per 48 ore, 12,50 euro. Siete giù questo cassa di canata. Ma qui c'è uno spazio in corso, cosa state facendo? Per raccogliere donazioni per i prezzonati. No, no, non dimenticare. Le donazioni per i prezzonati. Cosa stai facendo? E ne facciamo sempre così. Il programma di oggi è molto semplice. Pranzo, ora andiamo in hotel. Non so dove. Un amore, guarda cosa mi andato. Umu, un amore. Guarda Fragio, i cash. Oh. Cioè, i cash, glory. Ti senti già Romano? Ma come cazzo se fa? Ma come cazzo gioca sta Roma. Ma sta Roma, ma lo vedi, lo vedi? Tonda e Vrama, non dammi. Ma Roma o Lazio? Lazio. siamo arrivati a roma san pietro ma fratelli bisogna sempre fare così roma san pietro ambientazione ambientazione top siamo ancora a stazione usciamoci prendiamo un bel cornetto con la marmellata scusate questo burino che si vede già è il colosseo siamo arrivati in hotel questa è la lounge irko finirà in questa vetrina con molte buone probabilità ora lasciamo tutta la nostra roba qui e poi si parte si parte ti senti già del romano stasera ci aspetta una bella carbonara di quelle buone ora andiamo a cercare maria de filippo sono a chiesa costanza notte di fuoco baby la tua lupa vero mi fai sentire la tua lupa soffra faremo un tour della stanza e di tutta la zona no easy Ma il tiktok è così Ma come è attenzione ma non si attende Che bello Parco Sempione, una meraviglia! Oh, ehi tu! Avvijai! 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 Faccio il quick and play Dico la pausa pranzo E poi si ritorna più forti di prima Grazie per i 200.000 iscritti ragazzi Grazie a Buspe Asperz per averci fornito questi panini proteici Questi panini nozzi buonissimi Proteici ragazzi buonissimi Tanta robetta Nozzo al sacco Stai da qua, mortazzo Poi un giorno quando Yakidale mi saluterà in un suo video Brutto Favijai Cosa ride qua? No! Yakidale! No! Com'è? Posso farci una foto? Sì sì Sticca! 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 Abbiamo fatto tutti i controlli per entrare al Vaticano E adesso stiamo per entrare Siamo all'ingresso del Vaticano Superate le guardie svizzere 1500 euro al mese 1500 euro al mese Guardie svizzere ovvero 1800 franchi Che sarebbero 1500 euro E ora entriamo al Vaticano No no non è vero Non succede niente stanotte Salve Prof Spadaro Prof non guardi il telegiornale? Non guardi i video Non guardi il video in generale Vettrine spaccate Mirko Repetto su Instagram E da qui si vede la Cappella Sestina E ora stiamo ancora salendo Sopra Basilica Wow Non ci passi bro Quanto sei enorme Oh stiamo salendo Oh 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 no Non c'è più Siamo in un loop Non finisce più Basta Nooo Si sta piegando tutto Non è real Freestyle Ok Che siamo Che siamo Portiamo Genova La bandiera di Genova Ma è minuscola Madonna Dove siamo? Dove siamo? Con lo sticker del Don't Stop Dopo tutta questa vista Si scende Vai tartare Una donna che schienette Eh che c'è coda Un ubriaco è impazzito Bambini 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 Siamo al Vaticano Bambini C'hai 40 anni Che c'hai Sei qua Ricky tu con noi Noi piano zero Dobbiamo farci tutti la dolce E poi andiamo a mangiare tutti a carbonara No 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 No